Bentornati o benvenuti agenti sul canale, oggi Thunder vi butta lì un'altra build per la zona nera, giocabile sia in solo con qualche difficoltà che in gruppo con tanto profitto, infatti in gruppo con un medico questa build farà sicuramente la differenza sul danno totale, ma prima sigla. Eccoci qui per vedere la build, fra poco nel dettaglio la vedremo, ma prima non dimenticarti di iscriverti al canale, mettere un like al video, iscriverti anche alla mia pagina Facebook ThunderStream e seguirmi sul mio canale Twitch dove faccio dirette tutti i giorni alle 13.30 per 2 ore e alle 21.30 per circa 3 ore, vieni a trovarmi e aggiungimi Xbox Live Thunderita per fare qualche partita insieme che sia essa ride, zona nera, conflitto o altro. Veniamo subito alla build, come armi principali io ho scelto di mettere un Eagle Bearer, perché comunque il suo talento e il suo danno sono veramente molto utili con questa build, soprattutto se si ha in mente di andare a Rogue e in caccia all'uomo. Un FAMAS con tutte le mod su probabilità di colpo critico e un talento sadismo. Cercate di dropparlo con questi tre attributi, danni fucile d'assalto, danni al bersaglio fuori dal riparo, e se anziché danni salute riusciste a trovare danni corazza o probabilità di colpo critico sarebbe meglio e non l'ho ancora trovato, però la build comunque già così è funzionale. Se riusciste a trovare con probabilità di colpo critico, ovviamente le mod sul fucile potreste switcharle in danni critici e aumentare ancora di più il potenziale. Focus comunque sul talento sadismo essenziale. Pistola non gliene frega mai niente a nessuno, mettete quella che avete voglia. Io ho questa con colpo di grazia, per lo stesso motivo della build scorsa, se mi ricordo di tirarla fuori quando ho fatto una kill, bene, se no, come al solito me ne dimentico. Comunque, necessiterete di trovare quattro pezzi del set assalitore, il vecchio set di The Division 1, che finalmente, con un po' di buon senso, la Ubisoft ha deciso di rivisitare e di ripristinare un pochino in quanto a logicità. Infatti prima, con quattro pezzi, si attivava scommessa del giocatore, ma oltre che perdere i bonus ogni secondo, si riduceva anche ogni colpo non andato a segno. Hanno tolto quella stupidaggine e hanno lasciato solo ogni secondo la quantità accumulata e si riduce di due unità. Infatti, la quantità si accumula sparando e mettendo a segno i colpi. Ogni colpo a segno fa ottenere lo 0,5% di danni per cento in più e si può accumulare fino a 50 volte. Con un fucile d'assalto come il FAMAS, che ha un CPM di 1035, non ci metterete veramente molto ad accumulare il bonus nel suo totale. Tutti e quattro i pezzi andranno droppati con probabilità o danno critico. Infatti, di questi quattro pezzi di assalitore dovrete metterli tutti su corazza e avere come attributo secondario due probabilità e due danni critici. Se riuscirete ad avere anche gli altri due pezzi che andremo a vedere con una buona probabilità, probabilmente potrete fare anche tre danni critici e una probabilità. Comunque cercate sempre di avere una probabilità intorno al 50%. Io qui ho 42% con l'Eagle e quasi 50% con il FAMAS, 120% di danni critici e 75% di colpo alla testa, che non è male. Mancherebbe un po' di danno corazza, ma tant'è. Comunque, il talento sadismo del fucile, che è quello che andrà a fare veramente un po' più di danni, si attiverà con il petto esotico Orgoglio di Ridgeway, che infligge emoragia. Infliggendo emoragia si attiva il talento sadismo, che fa 20% di danni arma contro i nemici con emoragia. Come zaino abbiamo una cosa analoga. Io ho scelto un Ferris, che dà 10% di danni fucili assalto, con crudele. Infatti, il talento dice che applicando un effetto di stato, si aumentano i danni dell'arma totale del 18% per 20 secondi. Quindi un talento che basta un colpo a segno per essere attivato per 20 secondi e non ci si pensa più. E in uno scontro in zona nera, 20 secondi, significa quasi due vite. Significa morire, rinascere e riuscire dal posto per fare in tempo a rimorire. E si ha ancora il talento attivo che dura 20 secondi. È veramente un'eternità. Si combinano il talento dello zaino, quello del petto e quello del famas, per creare un boost di danno non indifferente. Se sceglierete di mettere il firewall come specializzazione, vi consiglio di mettere lo scudo aggressore. Non semplicemente il crociato, bensì l'aggressore, proprio per avere il bonus danni delle mod e della specializzazione. Questo perché è importante? Perché quando si applica emoragia, questo perché è importante? Perché la variante di questa build, se non volete mettere il famas con emoragia, e magari non ce l'avete, non lo volete farmare, potete mettere quello con sincronizzato. Infatti, tirando fuori lo scudo, avrete un bonus del 30% danni arma, che a differenza di sadismo, che è perennemente attivo perché vi basta sparare per applicare l'effetto di stato ed avere il bonus che si attiva in automatico, qualsiasi cosa succeda si attiva, sincronizzato lo dovete attivare mettendo e togliendo continuamente lo scudo. Ovviamente, quando vi verrà rotto per 20 secondi di countdown dello scudo, il bonus non ce l'avrete. Quindi, a seconda che siate in gruppo o soli, restate attenzione a questo tipo di talento. Scegliete quello che per voi è più congeniale. Io scelgo sadismo per comodità. Come abilità secondaria, un esca. L'esca è sempre bastarda e gradita in zona nera. C'è chi mette l'alveare ricostituente per togliersi gli effetti di stato, che siano essi fuoco, emoragia o altro. C'è chi mette il drone difensore. C'è chi mette la sticky bomb EMP da tirare sui piedi addosso agli avversari per impedirgli di tirare lo scudo. Una volta che non riescono a tirar fuori lo scudo, con questa build li distruggete. Tranquilli che li distruggete. Grossa alternativa anche all'Eaglebeer può essere Miss Morte. Questa necessita di essere caricata, ma comunque con pochi passi si carica, ormai tutti la si conosce. Io non la uso particolarmente volentieri perché questa è una build, secondo me, più per il medio-lungo raggio. Più per correre dietro i rog o per fare i rog sul lungo, perché nel breve le build sono altre. Si può provare questa build anche con il mitra. Non sarebbe assolutamente sbagliato, non ci sarebbe niente di male. Però, secondo me, questa build rende molto di più sul medio-lungo raggio. Se volete provare a fare veramente una variante di questa build, potete prendere questo tipo di fucile, un bel pompa che ha il fuoco automatico senza dover continuamente schiacciare. Se volete andare nel ravvicinato, questo fucile vi attiva istantaneamente tutto il bonus dato dal set dell'assalitore, perché con pochi colpi ogni pallino viene contato come, diciamo, proiettile. Quindi il bonus vi si attiverà molto rapidamente. Switchando arma poi potrete andare a distruggere il vostro avversario. Quindi se tenete un FAMAS e questo ACS potreste trovare una combinazione vincente sicuramente migliore a seconda di come giocate. Questo set va benissimo se c'è un medico in solo. Vi garantisce una discreta sopravvivenza, perché comunque un e mezzo di corazza non è affatto male. E vi garantisce comunque un buon bonus danni. Ottimizzate tutto l'ottimizzabile. Cercate di farmare più probabilità e danno critico che potete. Danni colpo alla testa e maneggevolezza arma non vi servono a molto. Cerchete di arrivare il più vicino possibile a 60 di probabilità di colpo critico. 50 già vanno bene, ma se superate meglio per voi. E il danno critico in sé per sé deve essere il più alto possibile. Se siete veramente bravi a mirare e sparare, potete anche investire qualche attributo su danni colpo alla testa, ma ve lo sconsiglio, soprattutto se siete alle prime armi nella zona nera. O comunque non avete un party set veramente schillato, con cui giocate da molto tempo. Perché quello influisce di più di qualsiasi build. Io o chiunque altro possono andare a consigliarvi. Infatti la differenza dell'avere un medico o no in gruppo, dell'avere un tank o no in gruppo, dell'avere qualcuno che ha, ad esempio, questo tipo di petto o meno, fa tutta la differenza del mondo. Quindi regolatevi in base al vostro stile. C'è chi usa anche questo tipo di build con tre pezzi su corazza e tre su armi da fuoco. A voi la scelta. La mia è una linea di massima per poter giocare in zona nera. Farmabile veramente in pochissimo tempo, perché il drop obiettivo su questo tipo di set è veramente semplice. Il rejuay richiede il progetto più o meno, penso che tutti avremmo già fatto. L'unica cosa da farmare veramente a rompipalle può essere lo zaino Fenris con crudele. Io ci ho messo un po' e non l'ho ancora ottimizzato, però comunque non è una cosa così impossibile. Fammi sapere cosa ne pensi di questa build nei commenti. Ricordati di venire a trovarmi nelle live, visto che già siete in tanti che venite in zona nera a prendere a schiaffi. E magari ogni tanto riesco pure a darmene qualcuno. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Lasciami un like, non ti costa niente. Iscriviti, anche questa cosa è gratuita. E seguimi su tutti gli altri social. Ciao, al prossimo video! Ciao, al prossimo video!